Intanto abbiamo fatto un po' il punto con l'assessore Gallo, il collega Domenico Costarella e i colleghi della regione Calabria, Calabria Verde, un po' il punto della situazione sull'entincendio boschivo di quest'anno. E poi abbiamo messo a fuoco alcune esperienze importanti, alcune più consolidate come quelle dei gemellaggi, dei campi scuola e alcune invece innovative come la parte collegata ai droni. Su questo lasciatemi fare una considerazione. Il tema della tecnologia in materia di protezione civile è un tema che spesso viene utilizzato o qualche volta anche abusato, nel senso che la tecnologia è parte della nostra società, della nostra cultura oggi e tutti noi siamo pronti a venire incontro a nuove risorse e a nuovi strumenti tecnologici. In protezione civile la tecnologia significa anche procedure. Le sanzioni sono un pezzo importante di tutti i sistemi, c'è una parte di prevenzione, c'è una parte di repressione. Certamente la repressione ha più senso laddove c'è il dolo, laddove c'è la colpa, è anche una struttura, è una forma anche culturale. Guardate, come criminalità certamente la parte di repressione è importante. Su questi incendi comunque siamo ancora a valori molto bassi, le persone che comunque si prendono sono poche, i percorsi a conclusione sono spesso non semplici, per questo bisogna lavorare sulla repressione, bisogna lavorare anche sulla cultura e sulla formazione. Abbiamo sicuramente difficoltà perché in molte aree della Calabria la forestazione è andata a finire, in altre aree abbiamo carenza di personale e abbiamo anche difficoltà ad allestire le squadre antincendio in molte aree della Calabria, per cui naturalmente c'è già una interlocuzione in corso con i sindacati ed è volontà del Presidente Occhiuto, oltre che volontà mia, quella di rilanciare un settore importante come quello della forestazione che potrà però sostenersi soltanto attraverso il tempo parziale, non attraverso il tempo indeterminato perché altrimenti non ci saranno i numeri e le finanze per sostenere un rilancio della forestazione. Noi vogliamo essere l'amministrazione che in un certo qual modo, insieme a Calabria Verde, che voglio ringraziare per l'impegno profuso, insieme al Direttore Oliva, anche coloro i quali si dedicano quotidianamente al sistema antincendio, come l'ingegnere Mangiardi che è responsabile dell'antincendio, noi vogliamo naturalmente rilanciare un settore che è stato storicamente, un settore che peraltro ha dato alla Calabria un patrimonio immenso, perché la Calabria ha 600 mila ettari di bosche, che credo possa costituire per la Calabria e per il paese un immenso patrimonio. Ma noi riteniamo che la politica della tolleranza a zero sia stata una vera svolta, che ha voluto il Presidente Occhiuto, al quale va il merito di aver voluto imprimere un'accelerazione al sistema antincendio in questa nostra regione, perché siamo passati da una fase di lotta attiva a una fase di prevenzione, sia attraverso il coinvolgimento dei nostri forestali, che sono dislocati nelle aree strategiche e quindi fanno un'azione di prevenzione, hanno anche una premialità per l'azione di prevenzione, se nelle aree loro affidate diminuiranno gli incendi, sia perché sono state affidate alla situazione di volontariato, delle aree avranno delle premialità nel momento in cui ci siano delle diminuzioni di incendi nelle aree loro affidate, sia perché abbiamo coinvolto i cacciatori, che spesso sono stati imputati di applicare incendi, invece a loro abbiamo affidato in particolare i cinghialai, intere aree che sono le aree affidate alle squadre di caccia e sono stati attori nella prevenzione, sia perché abbiamo rinnovato la convenzione con i vigili del fuoco, sia perché abbiamo finalmente stipulato dopo tanti anni una nuova convenzione con i carabinieri forestali, sia perché abbiamo creato una sinergia fra la protezione civile e Calabria Verde, sia perché, e questo non è un caso che oggi siamo qui, io voglio ringraziare il dottore Curcio, che è il capo nazionale della protezione civile, per questo segnale di attenzione nei confronti della nostra regione. Considerazioni positive che comunque servono ancora per lavorare, nel senso che la protezione civile è un sistema dinamico, bisogna sempre stare attenti, la guardia deve essere alta perché i rischi si possono mitigare, non si possono ridurre a zero. Quindi i risultati che sono stati raccolti, i frutti di un lavoro durante tutto l'anno, servono semplicemente per ripartire per gli anni successivi e non solo per gli incendi, ma per tutto il sistema di protezione civile. Come diceva prima l'assessore, al momento abbiamo registrato una riduzione rispetto allo scorso anno del 52% di incendi boschivi rispetto al 2022 e al momento ci sono 67 segnalazioni di incendiari, questo è il termine che viene utilizzato, poi sarà 69, ancora meglio, incendiari, ecco, due che sono stati aggiornati proprio in questo momento, che sono stati segnalati alle autorità per le varie attività che verranno svolte. Il clima può aver infolito, ma non è soltanto il clima, perché gli incendi, anche se sicuramente il caldo è un fattore nella provocazione degli incendi, in ogni caso abbiamo avuto anche stati non particolarmente calde, come il 2021, non la ricordiamo quando è stata caldissima, però è stata assolutamente drammatica dal punto di vista degli incendi. Il drone è una componente del sistema, sicuramente aiuta perché fa deterrenza, fa prevenzione e aiuta anche nella gestione delle emergenze. Il drone è di fondamentale importanza, accompagnato da un sistema anche di pattugliamento da terra, di intervento delle squadre, che è di supporto a tutto il sistema.